Allora lui è sicuramente un grande calciatore, io non vado a interferire su quelle che sono le trattative, il mercato e via dicendo, sicuramente ne vengo a conoscenza di tutte queste trattative, perché quando sono lì in riunione e poi me le dimentico, qualsiasi cosa mi dimentichi poi le ritrovo, basta andare su internet e le ritrovo sui giornali, per cui faccio alla sverta insomma a ricollegare tutto. Ecco lui sì, è uno di quelli che abbiamo parlato, è un grande calciatore, però abbiamo parlato anche di altre situazioni, senza perdere di vista poi quelle che noi abbiamo di già. Il pastore però è importante perché è quello che mantiene unito il gregge perché è quello che li tiene tutti insieme.